ciao ragazzi bentornate sul canale come avrete letto dal titolo oggi video recensione su una palette che appena uscita ha scatenato una serie infinita di chiacchiericcio sto parlando e so di essere in netto ritardo perché già nabla è uscita con delle nuove novità che mi tentano giorno dopo giorno ma io sapete ho bisogno di testare bene un prodotto prima di poterlo recensire l'ho acquistata con i miei soldi l'ho acquistata quando è stata lanciata perché ovviamente non mi è stata inviata dall'azienda sto parlando della secret palette di nabla mi sono presa il tempo necessario per valutarla il make up di oggi è fatto appunto con questa palette e niente oggi ne parliamo un pochino insieme innanzitutto come da consuetudine come d'abitudine nel mondo nabla ma un po del make up in generale la palette è stata anticipata da alcune foto oscurate su internet dopodiché è stato svelato il pack esterno che penso abbia messo un po tutti d'accordo vado a togliere la subito la confezione di cartone esterna quindi il pack secondario e vado a mostrarvi la palette in tutta la sua bellezza sicuramente una volta mostrati i dettagli di questa palette diciamo un po tutti sono erano d'accordo sulla bellezza effettivamente sull'estetica proprio della palette è in cartone con chiusura magnetica al solterno un bello specchio utilissimo fase di trucco all'interno la palette è costituita da queste tre file da cinque ombretti quindi abbiamo un totale di 15 ombretti e le polemiche che hanno seguito diciamo l'uscita della palette in realtà già in fase di pre lancio quindi quando sono cominciate a comparire le prime foto dei colori contenuti all'interno di questa palette alcune persone hanno avuto da ridire definivano i colori visti e rivisti dei colori senza nulla di particolare un'altra premessa scusate stavo dimenticando doverosa è che io non posseggo altre palette di nabla quindi diciamo questa è una recensione proprio vergine su questa palette non ho altri margini di confronto dello stesso brand per potervi dire è superiore o inferiore alle gemelline precedentemente uscite io devo dire mi sono trovata subito in disaccordo con le prime polemiche appunto derivate dalla gamma cromatica scelta mi dispiace tanto che nabla non vedrà questo video perché avrei veramente piacere se qualcuno dell'azienda potesse smentire o meno quella che è l'idea che mi sono fatta io quando ho visto questi colori e in base a la data di uscita della palette e poi devo dire anche a seguire con le cutie con le piccoline che sono uscite adesso più di recente innanzitutto credo che questa presunta banalità dei colori sia dovuta alla presenza del nero del marrone scuro magari di questo cremino qua perché sono colori che si hanno tante palette ma sono anche quei colori che rendono una palette fine a se stessa cosa intendo per fine a se a se stessa intendo che prendo questa palette riesco a fare un makeup dall'inizio alla fine senza dovermi rivolgere ad altre palette siccome è uscita nel periodo di maggio se non erro io credo che l'intento di chi ha studiato questa palette che poi tra parentesi invece banale non lo è neanche per niente poi quando uno ce l'ha per le mani era quella di mettere in mano ai propri clienti una palette adatta al viaggio che da lì a poco si sarebbe fatto quindi io ipotizzo di partire quest'estate con questa palette e credo di non aver bisogno di null'altro almeno per quanto riguarda il makeup occhi perché c'è veramente tutto quello che mi può servire per creare dei nude per creare degli smoky per creare degli smoky caldi degli smoky un pochino più freddi per tutta la gamma cromatica qui dell'oro che tanto fa estate non solo inverno e natale insomma ho trovato abbastanza banale come osservazione quella di definire questa palette nulla di nuovo oggettivamente io continuo a girare per strada per il mondo e di persone con tutti questi makeup super colorati arcobaleno per strada fa così tanti non ne vedo quindi ben vengano le palette che tutti possono utilizzare che tutti poi in realtà utilizzano detto questo l'altra grossa polemica che si è scatenata è stata post vendita escono gli swatch di mister daniel bellissimi stupendi se riesco ve li metto qui da qualche parte ma se non li trovo potete immaginarli tutti conosciamo mister daniel tutti sappiamo la qualità degli swatch che faceva prima di essere creatore di diabla figurarsi dopo soprattutto quando si tratta di una paletta che sta in prelancio quindi nulla di nuovo sul fronte occidentale swatch molto ben fatti molto carichi molto saturi allora innanzitutto quando faccio degli swatch non è facilissimo fare degli swatch belli fatti in quel modo ci vuole una certa attrezzatura e ovviamente voi concorderete con me che difficilmente quando si fanno questi tipo di swatch vado con il dito delicato e e faccio uno swatch uno swatch uno swatch uno swatch morto smorto non si fa si calca di più il colore altrimenti lo swatch non viene bene quindi io non vedo nulla di particolare ciò nonostante molte ragazze lamentavano una scarsa pigmentazione un effetto molto 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 deludente in modo particolare della colorazione nera e credo di questo verde petrolio qui che si chiama addiction e devo dire che effettivamente negli swatch nelle nel get ready with me dove vedevo alla prova il nero rimaneva un attimino concorde con le ragazze che effettivamente ci fosse qualcosa che non andava ora io ho comprato tranquillamente la mia palette perché fondamentalmente io il nero si lo utilizzo ma non è il colore principe dei dei miei make up e comunque quasi sempre la mia il mio nero mono che ritengo il nero perfetto quindi poco male certo se c'è l'utilizzabile preferisco compro la mia palette vado come tutti a swatchare la paletta iniziamo dalla prima fila questa fila molto calda allora questo è il primo colore nulla da dire vado su contigo che uno dei miei colori preferiti una texture per un matt burrosissima questo è contigo il big experience che credo sia uno dei più particolari di questa palette sto becca questa poi c'è il giulietta con rosa matt sempre con questa burrosità dei matt che è non rara di più e poi abbiamo il romeo che ovviamente è messo accanto a giulietta questa è una cosa che va avanti da qualche decennio credo e questo è appunto romeo tutto oserei dire abbastanza nella norma swatch buoni decisamente buoni che non giustificano per l'appunto quanto detto in precedenza da alcune persone che hanno acquistato questa paletta arrivo al dunque perché non è che quelle persone hanno detto il falso arrivo al dunque seconda fila quindi partiamo con una fila decisamente differente quindi questa è la seconda fila inizio dal play hard che è questo bianco duo chrome eccolo qua che spolvera un pochino sull'occhio ma guardate l'effetto specchiato che dà questo ombretto a seguire c'è il rosemary quindi cominciamo ad avvicinarci un pochino ai colori più criticati l'addiction appunto quindi questo è uno dei colori che tanto hanno fatto discutere rispetto agli altri matt è sicuramente meno burroso è sicuramente più asciutto è sicuramente uno di quei colori più difficili da riportare in cialda parliamo di un colore che ha una forte percentuale di blu e io credo che un po' tutti siamo a conoscenza delle problematiche che si hanno sul blu questo è lo swatch sicuramente un colore con cui si fa più fatica però tutto sommato ripeto non il colore a seguire è il fantasize che è questo violone bellissimo eccolo qua e poi abbiamo il marrone quindi il mea culpa aspettate che dobbiamo pulire un attimino qua se no è una tragedia il mea culpa è il classico marrone da definizione da struttura di makeup un colore che io personalmente esulto quando vedo all'interno delle palette ecco il mea culpa e andiamo adesso all'ultima fila che appunto la fila che presenta tutte queste sfumature di dorate il tanto chiacchierato la black in nero andiamo a vedere che cosa succede con quest'ultima fila allora il primo è l'hai promesa che è un classico champagnino lo mettiamo sotto eccolo qua champagne più che comune all'interno delle palette a seguire c'è un colore che io amo molto è l'iper sensual spero di pronunciare bene i nomi mi sono pure toccata prima eccolo qua poi abbiamo il gibli colore perfetto per strutturare un makeup quindi colore da interdizione cammello cammello meraviglioso eccolo qua arriviamo al creation crown che è questo oro che io oggi ho sulla palpebra fissa eccolo qua nulla da dire e arriviamo al chiacchieratissimo una black quindi sento tutte queste polemiche vado subito a prendere la mia paletta perché sinceramente non avevo ancora utilizzato il nero non essendo vi ripeto un colore che già utilizzo normalmente nella stagione invernale figurarsi l'estate quanto insomma rientri nei miei canoni al tatto la burrosità è la stessa vedete già della cosa che è un pochino non omogeneo sul dito lo faccio qua così si vede bene e questo è lo swatch come vedete nella parte iniziale si è compattato man mano va scemando allora non è sicuramente il nero della vita questo sicuro si percepisce subito dallo swatch e tutto quanto rispetto a magari quello che si era visto nelle prime fotografie non è neanche così pessimo da scatenare questo putiferio in giro per il web passa un po' di tempo io continuo a testare la mia dorata palette mi ci trovo devo dire molto bene un costo di 39,90 euro si trova facilmente in sconto nei vari siti quindi sinceramente mi preparo a fare questo video e sinceramente a consigliarlo sia alle appassionate di make up che vogliono collezionare le palette di Nabla perché comunque sarà sicuramente una palette che anche se ne avete tante utilizzerete sia a chi invece pondera molto bene i suoi acquisti e questa è effettivamente una palette da tutti i giorni molto completa quindi ad un costo per 15 ombretti molto validi assolutamente ragionevole ripeto ero pronta e sono pronta a consigliarvela però ero molto curiosa di capire ma perché tante persone non si sono trovate invece bene con alcuni colori di questa palette insomma mi sono imbattuta in più persone che segnalavano per farvela breve in soldoni è saltato fuori un particolare un lotto di queste palette di cui ignoro il numero ma se fate un giro su internet lo troverete facilmente che è presumibile abbia avuto effettivamente qualche problemino in più tant'è che se le prime risposte dell'azienda sono state ma no nessuno si sta lamentando della secret palette non riusciamo a capire per quale motivo lei non si trova bene ad un cambiamento abbastanza radicale ci appare che insomma chi avesse quell'otto di palette sia stato rimborsato mi viene quindi da pensare che Nabla ricevendo una serie di lamentele e essendo risalita allo stesso lotto un po' per tutte quante abbia fatto delle verifiche del caso e si sia resa conto che effettivamente quell'otto non performava come avrebbe dovuto quindi fatevi una ricerca su internet andate a vedere se per caso siete delle sfortunate che sono in possesso di quell'otto e fatevi magari sentire con l'azienda perché assolutamente la palette è performante è valida è buona è una palette molto comoda da portare in viaggio io ripeto mi piace pensare che l'ideatore di questa palette di Nabla abbia proprio pensato alle vacanze e alla possibilità di dare ad ognuna di noi la possibilità di portare con sé un'unica palette cosa che credo sia abballata anche dall'uscita delle cutie che sono delle palettine perfette da portare in viaggio inoltre se voglio proprio dare un'altra giustificazione all'idea creativa che ha portato alla scelta cromatica di questi colori di questi 15 colori la palette a me ricorda uno stile un po' arabbeggiante e sinceramente se mi immagino un make up arabo creato da ragazze arabe devo dire che qua trovo un po' tutto quello che mi serve per ricrearlo questa è un po' l'idea che mi sono fatta io ma al di là delle chiacchiere delle idee della fantasia del creatore è una palette da 15 ombretti che si può trovare anche facilmente in sconto anche tramite il sito di sephora nabla è scontabile con il 20 per me assolutamente ne vale la pena ragazze mi piace come primo approccio con una palette nabla mi sono trovata bene oltretutto si hanno veramente tante tanti ombretti dalle consistenze molto diverse proprio da dalle formule differenti tante volte non è solo il colore che fa bella una palette ma è la formula degli ombretti qui ne troviamo veramente veramente tanti nabla con le cutie che spero di riuscire a prendere prima o poi dimostra che non è finita con gli ombretti ci sono tante formulazioni tante nuove idee tante nuove performance che si possono ottenere da dei semplici ombretti quindi tante volte si vedono dei colori magari visti e rivisti ma bisogna vedere un attimino che tipo di performance ci danno che tipo di consistenza hanno quegli ombretti con questo spero che sia tutto ragazzi se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanellina perché mi giunge voce che ci sono problemi a vedere le nuove uscite dei video soprattutto dei canali piccolini nella home proprio perché non sono state attivate le campanelline vi mando un bacio grande grande ci vediamo alla prossima